Vieni, vieni qua, più vicino, vieni, 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 giù. Raffaella Carrà, meravigliosa, ravissante, chanteuse. Una figura incredibile, Raffaella Carrà! Sei tu che hai aperto la nuova frontiera. Attenzione al corattore. Che c'è stasera? Raffaella Carrà. Allora mi mettevo davanti al televisore e lei comparve. Sempre perfetta, per me era uno supereroe. Lei non faceva, lei era. Diventa un'icona. Sei molto felice. La gente è impazzita. Ma se lei non fosse la Carrà, chi vorrebbe essere? La Pellone. L'importante è amarsi. Utilizzava un linguaggio del quale avevamo bisogno. Siete fantastici, grazie. Siete fantastici, grazie. Siete fantastici, grazie.